Ciao a tutti sono Davide di Audioconstruzioni oggi voglio presentarvi un vero e proprio mostro di potenza il nuovo Macintoshield 452 è un finale da 450 watt sia su 2 che 4 che 8 ohm diciamo uno degli ultimi nati della di casa Macintosh che sempre con i trasformatori d'uscita che ha fatto diciamo tutta una nuova serie di prodotti oltre sempre bellissimi ma con una concezione leggermente diversa cioè chi ha visto o segue sul mio sito le mie recensioni avrà capito Macintosh sta andando avanti con una politica di diciamo suono più moderno molto più veloce meno pomposo meno effetto ludness e anche questo è andato diciamo in quella direzione lì quindi non troveremo più il basso lungo presente così ma anzi siamo andati praticamente all'opposto cioè suono veloce piacevole e anche con i drive piccoli li fa volare però con sempre la morbidezza e diciamo il piacere all'ascolto la poca fatica all'ascolto che è il classico di Macintosh con i trasformatori di uscita l'amplia a 75 ampere di uscita perciò è quasi un generatore di corrente abbiamo i display che sono belli i suoi occhioni blu sono veramente belli grandi molto più grandi rispetto al 252 e la potenza come dicevo di 450 watt il prezzo nel 2011 ha un prezzo di listino di 11 mila euro l'importatore italiano mp scusate nel 2012 ha fatto una nuova politica diciamo con l'anno nuovo prima metteva diciamo i prezzi prezzo di listino poi street price insomma era un po abbastanza problematica la cosa adesso per fortuna ha fatto un listino unico diciamo e noi rivenditori ci basiamo su quello con la scontistica su quello quindi è molto più diciamo seria la cosa l'apparecchio se riesco ve lo giro anche ve lo faccio vedere anche dietro oltre al suono e la caratteristica che dicevo prima ha sia le entrate bilanciate che è RCA e anche le uscite questo apparecchio qua i connettori sono bellissimi dopo ve li faccio vedere e niente come vi dicevo il suono è meraviglioso adesso trovo un po a poter venire in un meter rispondono come pochi altri veramente bene 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 se riesco ve lo giro un po prima ve lo faccio vedere davanti poi dopo ve lo giro intanto vi saluto come sempre da Davide di Audiocostruzioni questo è un po' Grazie. Grazie.